Il corso di laurea magistrale in chimica industriale dell'Università di Bologna nasce dall'esigenza di formare figure professionali di chimici di immediato interesse per l'industria. È una laurea che, oltre alla necessaria formazione di base, dedica particolare spazio agli aspetti applicativi delle conoscenze chimiche e a discipline direttamente collegate alle produzioni industriali. Il chimico industriale è un chimico che sa applicare la chimica ai processi industriali e usare la chimica per risolvere i problemi dell'industria. La chimica industriale è presente a Bologna da oltre 100 anni e nel corso del tempo si è continuamente rinnovata per venire incontro alle nuove richieste dell'industria chimica e del mondo industriale più in generale. Da sempre i nostri docenti collaborano con il mondo produttivo e le industrie a livello locale, nazionale ed internazionale, oltre che fare attivamente ricerca di base e applicata. Il corso di studi si propone di formare laureati magistrali in possesso delle competenze teoriche e pratiche necessarie per inserirsi in ambienti di lavoro multidisciplinari quali ricerca, sviluppo, produzione, controllo di qualità e sicurezza, applicazioni e commercializzazione dei materiali o prodotti per il sistema industriale, l'agricoltura, i servizi e il consumo. Particolare attenzione viene posta alle problematiche di compatibilità ambientale, sicurezza e basso consumo di materie prime ed energia. A partire dall'anno accademico 2021-2022, il corso di laurea magistrale in chimica industriale ha sede presso il nuovo campus Navile dell'Università di Bologna, situato tra via della Beverara 123 e via Gobetti 95. Il nuovo campus ospita le attività didattiche e di ricerca del Dipartimento di Chimica Industriale Toso Montanari, insieme a quelle del Dipartimento di Chimica Giacomo Ciamcian, di Farmacia e Biotecnologie e di Astronomia. Inoltre il campus si trova nelle immediate vicinanze della sede bolognese del CNR. La presenza di differenti realtà accademiche e di ricerca all'interno del nuovo polo scientifico-tecnologico genera una fruttuosa sinergia per condividere conoscenza e esperienza fra mondi di differenti e necessaria per raggiungere obiettivi di ricerca più ampi e promettenti. Il campus Navile è una costruzione moderna dotate di aule attrezzate, laboratori per la ricerca e la didattica, una ricca biblioteca per la consultazione di testi e riviste scientifiche anche online. Sono presenti sale studio per gli studenti e un'ampia caffetteria per il ristoro. Il piano di studio del corso di laurea magistrale in chimica industriale si articola su due anni e prevede sia corsi di chimica di base che corsi di chimica industriale, materiali polimerici, chimica applicata all'industria e alla tematica ambientale, impianti chimici e corsi a libera scelta dello studente. Le attività didattiche in aula sono affiancate da numerosi laboratori didattici finalizzati all'applicazione diretta delle conoscenze acquisite. Grande importanza è dedicata al tirocinio in preparazione della tesi sperimentale. Questo ha luogo durante il secondo anno di corso e può essere svolto presso i laboratori di ricerca del Dipartimento, di altri enti di ricerca, presso industrie chimiche private ma anche all'estero tramite progetti di scambio europei ed internazionali. Dopo la laurea il laureato magistrale in chimica industriale può affacciarsi direttamente al mondo del lavoro in aziende, spesso ricoprendo posizioni lavorative di prestigio, oppure proseguire gli studi con il dottorato di ricerca o master di secondo livello. I principali sbocchi professionali sono l'industria chimica, farmaceutica ed imprese clienti dell'industria chimica, laboratori di analisi, gestione ambientale e degli impianti, società di consulenza, enti pubblici e privati, l'insegnamento previo conseguimento dell'opportuna abilitazione. A cinque anni dalla laurea magistrale il 92% dei nostri laureati magistrali lavora e il 61% lo fa a tempo indeterminato. Chi fosse interessato ad avere ulteriori informazioni sul nostro corso della laurea magistrale non esiti a contattarmi.